Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay, oggi siamo su Polis Simulator Patrol Officers, che sembrerebbe essere il secondo titolo di questi sviluppatori sempre incentrato sulla vita del poliziotto. È un gioco davvero molto interessante e desidero anche ringraziare Ivan per avermelo regalato l'altro giorno. Ovviamente si trovano già numerosi video, numerose live, io lo voglio far vedere un pochino dall'inizio perché è un gioco comunque molto più profondo di quello che sembra. Infatti è un early access, non è ancora in italiano, non so se lo sarà mai onestamente, ma la cosa che differenzia un pochino da Fleshing Lights, che è un altro gioco simile, dove però si simula il poliziotto, il vigile del fuoco e il medico, diciamo l'ambulanza, è che qui siamo totalmente focalizzati sulla nostra carriera di poliziotto. La nostra carriera di poliziotto può prendere pieghe diverse, nel senso che vedete in alto a destra dei punti. Avete anche modo di premere il tasto Tab e accedere al Polis Computer, dove potete vedere è ambientato a Brighton. E premendo adesso qua non c'è, carriera dove dovrebbe essere qui, un compendio parecchio lungo in cui è possibile andare a leggere tutte le cose che potete fare. I rapporti test antidroga, la mappa del crimine, si può fare un'intervista. Verrà gli incidenti d'auto, le violazioni del traffico, le violazioni del parcheggio. Sono tante cose che alcune non ci sono ancora, altre ci sono, però da quello che ho visto verrà implementato in futuro anche un modo di capire un po' come è Lei Noir le reazioni delle persone con cui stiamo parlando. Ovviamente questo è il tutorial attivo, quindi avremo modo di capire, man mano incontreremo i vari errori che la gente fa nei parcheggi e il gioco ce li spiegherà. Una cosa importante, vedete in alto a sinistra la data e l'ora. La cosa interessante è che se clicchiamo col destro vediamo che qua c'è un errore, maggio 2019, loro hanno la patente riportata, la data di scadenza della patente. In questo caso dovrebbe essere giusto una licenza scaduta di circolazione, quindi la patente è scaduta. E vedete che adesso abbiamo guadagnato i punti per la giustificata. Premendo il tasto I potete vedere che cosa c'è che non va nelle vostre dichiarazioni qualora abbiate, qua è 21 si vede, abbiate fatto perso dei punti esperienza. Quindi è una buona cosa. Un'altra cosa utile è la scadenza del barcometro, del barchimetro come lo chiamate, perché ognuno ha questo che indica ogni parcheggio ne ha uno, quindi vi indica la validità o meno. Poi voi potrete lavorare sull'arco di settimane e mesi e ogni settimana dovete lavorare cinque turni di lavoro di tutto il giorno e avrete due giorni liberi. In questo caso andiamo a analizzare, 21 ancora. Ok, vedete qua è scaduto. Da quello che ho capito, se io gli do la multa così dovrei prima scansionare Xpard, poi vado a esaminare la taga. Quindi ora tecnicamente dovrei poterlo multare. Fate attenzione anche a questi cartelli perché qui da mezzanotte, da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio, è dalla mezzanotte alle 4 del pomeriggio, è pulizia delle strade, no è da mezzanotte, del mercoledì, del Wednesday, è vietato. Quindi se guardate in alto a sinistra e vedete che è quel giorno lì dovete multare. In questo caso dovremmo fare una multa per il parcometro scaduto. Dovremmo fare attenzione anche a comportamenti anomali delle persone, infatti qua vedete che è tutto giustificato, stiamo guadagnando degli ottimi punti. I CP dovrebbero essere tipo i punti condotto, ogni malefatta che facciamo viene insegnata lì. Quello che potete vedere adesso qua è equipaggiare una pistola, il radar gun, la flashlight, la possibilità di, questo è il taser, la fotocamera e l'adole, la paletta in pratica. Tra l'altro adesso non so se è ancora attivo ma la possibilità comunque la flashlight di puntarla sulle persone per farle spaventare dovrebbe, non so se è ancora implementata. Comunque il gioco promette assolutamente bene, questo lo garantisco. In questo caso vedete marzo del 2020 siamo a, il 5,4 dovrebbe essere il 4 del 5 quindi in ogni caso è scaduto. Quindi in questo caso andiamo e segniamo che dalla licenza la patente è scaduta. Ma soprattutto c'è uno sbaglio qui perché questo tizio qui tecnicamente ha parcheggiato contro mano pur avendo un parchimetro valido e pur avendo una patente scaduta. Quindi qua gli facciamo una tripla, doppia multina perché prima gli diamo il parchometro scaduto. No cannato, ho sbagliato. E va bene vi ho fatto vedere che ho perso 5 punti, va bene. Poi ho sbagliato perché ha la licenza scaduta. E poi lo dobbiamo anche multare per il senso contrario. Che è la cosa che in Italia non so se c'è onestamente. Comunque qua vedete che possiamo dargli posizionamento errato e wrong direction. Quindi si ritroverà un sacco di multe di cui due giustificate e una no. Abbiamo perso 5 punti, va bene. In questo caso invece avete qua è vicino a un idrante quindi è molto male. Molto molto male. Posso parlare con le persone. Dopo vi faccio vedere. Vediamo la licenza. 21 non c'è problema. È parcheggiata malissimo perché allora quella dopo ci studiamo. Questa praticamente ha un parcheggio errato. No. Dovrebbe essere vicino a un idrante. Quindi in realtà non la puoi lasciare qui perché se hanno bisogno dell'idrante infatti. Questa invece ha un parabrezza rotto quindi dovremmo tecnicamente da quello che ho capito farla portare via dal carro attrezzi per il fatto che comunque ha un parabrezza rotto. Vediamo se me lo accetta. E poi anche parcheggiata da schifo. Vediamo un po'. Sì. Sì sì sì. Me l'ha dato valido. Me l'ha dato valido. E dobbiamo fare attenzione anche a dare il buon esempio perché se attraversiamo le strisce pedonali senza il verde diamo il cattivo esempio. Se attraversiamo e perdiamo punti. In questo caso questo è. In regola se invece attraversiamo così non ci dà penalità. L'altra cosa molto interessante è che se attraversiamo in modo sconsiderato la strada veniamo investiti la partita finisce. Nel senso che dovremmo rifarci tutta la giornata. Quindi io avevo giocato una volta fino a quasi fine giornata. Sono morto e investito insomma. Sono infortunato. E ho dovuto ricominciare tutto. Quindi qua dovete fare attenzione. In questo caso vedete che qui il semaforo è rosso. Quindi state qui e aspettate che diventi verde. Che di là è verde. Adesso possiamo andare. Potete andare anche a interrogare le persone cercando di capire che cosa. Se magari possono avere qualcosa da nascondere. Questo ha il parcheggio libero. Ok giusto. Questo ok. però è parcheggiato veramente da schifo perché parking. T. Positioning. On sidewalk e sul marciapiede. Se parcheggiano invece troppo lontano dalla strada stessa cosa. Se parcheggiano troppo vicino all'estradisce davanti gli istintori un'altra cosa. I danti scusate non gli istintori. Questo è il parabrezza rotto. Quindi io nel dubbio faccio anche una scansione perché non si sa mai. Questo chiama il carro attrezzi. Stiamo facendo un sacco di punti devo dire. La cosa che potete fare all'inizio della partita è quella di scegliere un polizzotto già preesistente. Quindi non ne potete configurare uno vostro. Questo vedete adesso io perderò dei punti però lo voglio far vedere. Qua possiamo chiedergli la carta di identità. Qua possiamo detain. Fermarlo se sta correndo via. Ammanettarlo. Ne abbiamo tre di manette. Fargli una perquisizione. Dagli una multa o lasciarlo andare. Io in questo caso gliela chiedo. Anche se non è giustificata e perderò dei punti credo. In questo caso vedremo la sua foto. Assomiglia direi. Vediamo la data di inizio. La data di scadenza. La data di nascita. La classe. Se ha il permesso per portare armi con sé. L'altezza. Va bene. Perfetto. Grazie mille. Posso anche perquisirlo. In questo caso search. Posso fare una perquisizione approfondita o meno. Faccio la frisk. Vediamo che cosa li trovo addosso. Ok. Tutto a posto. Arrivederci. Ho perso dieci punti. Perché non è stata giustificata come cosa. Quindi deve ancora capitarmi. Però intanto esaminiamo questo. Scade. Perfetto. Direi che tutto è in regola. E poi la cosa interessante che vabbè adesso di access c'è. Però secondo me andrà comunque diventerà ancora più profonda è l'evoluzione della carriera come poliziotto. Quindi magari che so scontri armati. Così come l'auto. Poter gestire l'auto. Allora questa ha la licenza scaduta. Vediamo se riesco a fargli la doppia molta. Quindi questo. E poi il carroattrezzi. Così andiamo a recuperare un po' di cose. E poi. Ha il parabrezza rotto. Quindi direi che lo multiamo e poi lo mandiamo anche via. Vediamo il tempo adesso in alto a destra che sta finendo. E arriva il carroattrezzi. Men che non si dica portarlo via. Vediamo. È giustificato. Perfetto. E se la prende se la porta via. Intanto diamo un'occhiata a questa. Ok. 21. 21. Perfetto. Salve signori. C'è tutto il compendio poi volendo da leggere appunto come vi ho detto per capire ok. Qual è il comportamento del bravo poliziotto. In questo caso andiamo a multare ancora per il parchimetro scaduto. E rivederci. Questo patente è giusta. Il parcheggio è regolare. e poi dovremo lavorare fino a fine giornata. Così. Questo sta prelevando in banca. Allora. Questa sembrerebbe un po' sospetta. Perché vediamo. Riesco a scansionare. È ferma immobile. Sembra che stia aspettando qualcuno. quindi io andrei a parlargli. Gli chiedo la carta di identità. La rischiamo. Abbiamo un po' di punti ancora. Cerco di non compromettermi subito. Lei non ha permesso di armi. Dell'84. Sapete che non... L'altezza sono tutti gli altri uguali. Vabbè. Allora. Non lo so. Non lo so. Sei sospetta. Io ti perquisisco. Questa è la perquisizione. Quella un po' più... Non potrebbe farla un uomo. Però vabbè. Ha trovato marijuana e ha fino... Mamma mia cosa ho pronunciato. Mamma mia. Vabbè. Fino a un'oncia è permessa in Brighton. quindi può portarne fino a un'oncia. Il coltello da tasca ci può stare e quindi io ti lascio andare. Non credo tu abbia fatto nulla di male. E mi cazzieranno adesso perché ho chiesto documenti. Infatti premo I e vedo che non ho perquisito in modo giustificato. Non ho... Vabbè. Continuiamo il nostro giro di ispezione e poi magari ci vediamo a fine giornata. Ok. In questo momento alle 5 caledro di pomeriggio dopo 8 ore di lavoro il nostro turno è finito e quindi si torna indietro. Si torna alla stazione di polizia e vediamo un attimino che cosa succede alla fine di questa giornata pesantissima di lavoro. End shift. E andiamo a stendere il rapporto di quello che abbiamo fatto alla fine della giornata. facciamo un login Frank Miller vediamo un attimino com'è andata. Abbiamo fatto un po' di esperienza questo melting pot è un quartiere non so però se esista davvero comunque un nuovo giorno in ufficio controlla i turni disponibili ogni settimana puoi richiedere fino a due nuovi shift ok praticamente ci sono vari quartieri nella città questo è il primo no ma in realtà no ce ne sono più quartieri li vedete qua io adesso ho questo e ho questo sottocwartiere qui si potrà vedere dalla leggenda anche l'online player la pattuglia il partner ci sarà anche l'online quanto visto qua ci sono le cose che sbloccheremo a una stella 2, 3, 4, 5 quindi praticamente adesso non ce l'abbiamo fatta ma una sbloccheremo il radar gun limiti di velocità insomma i Beaufort landing non so cosa sia onestamente abbiamo ancora un turno di pattuglia a piedi non abbiamo altro qua vedete che abbiamo altro in quest'altro quartiere qui però non c'è nient'altro da fare e così ogni giorno fino ad aver lavorato 5 giorni possiamo prendere il giorno di riposo oppure vedete adesso prendiamo R dovrei poter passare il giorno infatti abbiamo passato il giorno abbiamo usato uno dei giorni di riposo non sono cambiati prendo anche il secondo continua a non cambiare quindi a questo punto si inizia una nuova giornata di lavoro non a dirigere il traffico ma a esaminare le auto quindi ragazzi questo era Poli Simulator Patrol Officers ringrazio ancora Ivan per avermelo regalato questo è solo l'inizio perché poi ovviamente si va avanti il gioco è piuttosto ampio però ricordate è appena uscito e quindi in Early Access ci metterà un po' magari anche un annetto a uscire completamente però le features verranno aggiunte man mano infatti se vedete qui c'è un menu che non c'è ancora andando qua vedete questo simbolino qui che ci dice che è un Early Access e questa cosa che non so cosa sia non è ancora disponibile ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao